Ottime performance dei quattro atleti di Olympia Athletic Team, tre veterani ed una giovane promessa, che hanno partecipato all'Italian Open, tappa del World Grand Prix che si è tenuto a Jesolo nei giorni scorsi e che ha visto al via bene a 600 atleti provenienti da tutto il mondo. Giovanni Pili d'Ottavio si è imposto nei 5.000 metri categoria T12, dove già aveva vinto lo scorso anno Nicola Rocca. Giuseppe Testa, malgrado un incidente tecnico alla carrozzina, si è classificato al secondo posto nella sua gara sui 200 metri categoria T51. Mircea Juras invece ha ottenuto un buon quinto posto nel peso categoria T46. Brillanti anche le prove del giovanissimo atleta paralimpico Leonardo nei 60 metri e nel salto in lungo. Grazie. Grazie.